Grazie a tutti. Grazie a tutti. Generalmente l'idea era che uscisse in gennaio, però io in gennaio siccome ho avuto degli inghippi nella scrittura, che poi non sono stati inghippi, fa parte quello che succede, però la prima stesura non era buona, che invece io pensavo sarebbe stata quella buona. Ma è quella del messaggio che hai messo su Instagram dicendo riscrivo tutto, ho capito. Esatto, quello lì è il Whatsapp con Giordano Aterini, che è l'editor in Mondadori, in cui alla fine della prima stesura, dopo tre settimane, lui non lo sentivo, cioè non mi dava una restituzione. Io ho iniziato a pensare che non fosse buona e poi quando gli ho mandato quel messaggio lungo, quando lui mi ha scritto ottimo in maiuscolo, ho detto ok, si ricomincia. E lì c'è stato questo allungamento del percorso, per cui gennaio, io sapevo che non ce l'avrei fatta per gennaio del 24, che era la prima data fissata. Quando quest'estate poi ho ripreso in mano tutto e siccome in realtà la prima stesa mi era servita, perché nella prima stesa, qual era il mio problema iniziale? Che io avevo una quantità di materiale enorme e quindi ho fatto fatica a mettere a fuoco che cosa doveva stare nel libro. La prima stesa mi è servita perché è vero che era un po' compilativa, ma allo stesso tempo dentro lì ho svuotato e ho messo in fila tutto quello che sarebbe stato buono per un racconto. Quindi poi quando arrivo alla seconda stesura, quello che mi succede è che io pesco da lì delle cose che in realtà sono già semiscritte. Quindi è come se avessi fatto una mappa più ristretta e dentro quella mappa più ristretta è stato più semplice poi capire che cosa prendere. Quindi quando poi riscrivo durante l'estate e risistemo, arriviamo a settembre e l'idea era facciamo maggio, facciamo l'uscire a maggio, perché ovviamente Mondadoro è una casa editrice grossa, quindi è anche molto affollata con le uscite, per cui se tu salti quella dove è previsto il tuo libro vai un po' in coda, no? Io ci ho pensato due settimane, poi ho risentito Marilena, Rossi e Giordano, ho detto secondo me maggio è troppo in là perché io non me lo sento un libro, diciamo così, che può... Da estate, un libro da un bellone e in effetti no. Esatto, Carlotta, quello è stato il mio pensiero, ho detto mi sembra, secondo me se troviamo un buco sarebbe meglio farlo uscire magari un mese prima, anche aprile. In realtà aprile era impossibile, per cui è uscita la data di inizio marzo. Poi anche quella data lì aveva una serie di problemi e è stato anticipato di una settimana, ma noi in realtà la data dell'uscita l'avevamo a settembre, quando eravamo molto lontani da poi tutto quello che è successo nella cronaca, che poi è stata la fissazione dell'udienza, eccetera, eccetera. Ma anche il deposito dell'istanza di revisione, perché quando noi abbiamo fatto la programmazione, cioè quando abbiamo deciso la data dell'uscita, sia la difesa sia il sostituto procuratore non avevano ancora presentato istanza di revisione. Ma poi perché, mi fa un po' impressionare perché la gente, o comunque anche tanti lettori, non hanno la percezione della filiera della creazione di un libro, no? E quindi dei tempi. E ci sarà anche gente che magari ti scrive e dice, eccola quella che ha fatto il libro giusto al momento, giusto per tirarsi dei soldi, capito? Adesso farà anche un libro su questo. È così. E sei entrata in quel club, da scrittrice finalista al premio strega, sei passata alla scrittura commerciale. In realtà, Carlotta, l'idea era un po', perché poi a un certo punto anche dentro la casa editrice era, ma non è che così sembra un instant book, no? Io ti dico instant book perché so che tu sai cos'è, no? Che sono i libri fatti tre settimane prima, un mese prima, fatti proprio sulla scia di una cosa ad attualità. E quella cosa lì ce la siamo posti, solo che abbiamo detto, ok, ma quindi che cosa facciamo? Dove lo mettiamo? E a quel punto era ancora più problematico spostarlo, perché a quel punto spostarlo avrebbe significato anche mandarlo a fine del 24 inizio 25, quindi diventava ancora più incasinato. Però è vero che un sacco di gente mi scrive, l'hai fatto apposta, perché so che io non so... Hai tirato su in cinque minuti e è pure corto, perché poi associ a questa cosa così, no? Esatto, uno dice è breve, l'hai fatto in tre settimane. Sì, sì. Poi io penso che se uno lo prende in mano se ne rende conto. No, per scrivere e per far stare in così poco spazio, così tante cose, bisogna averci lavorato un po' di più. Si. Si capisce che è una serie di stesure che sono convogliata in quella cosa. Sì, un pochino di più e poi in tempi in cui io non pensavo che questa cosa avrebbe avuto una riaccensione, cioè pensavo che fosse chiusa e messa nel cassetto, perché poi quando io comincio così a vagheggiare, di lavorare su questa storia, è il 19, per cui, è il 2019, per cui si era molto lontani, ma anche proprio, anche non c'era minimamente il retropensiero che... E anche tu lo avevi, cioè tu sei partita dicendo adesso vado e scopro comunque un po' con una presunzione di innocenza su di lei, oppure eri tipo come tutti noi, esposti solo a tesi accusatorie? Sì, in realtà ero come tutti, nel senso che quando io mi avvicino a lei io non so niente, non ho approfondito questa cosa, per cui quello che ho ricevuto sono state tutte le informazioni che abbiamo ricevuto tutti in questi anni. E all'inizio, onestamente, quando la incontravo c'era una parte di me che era molto inquieta, perché diceva mi trovo davanti a un'assassina, capito? E' un'assassina che ha fatto una cosa molto feroce. Quindi l'inquietudine all'inizio era legata a questa cosa. Poi è vero che progressivamente, mentre c'erano diciamo i due filoni di ricerca, che erano da una parte gli incontri con lei e dall'altra il fatto di prendere in mano tutte le carte e cercare di capire qualcosa, perché poi a un certo punto, quando ho deciso di fare il progetto, non potevo non entrare anche dentro quella parte di lavoro. E lì è come se fossero emerse delle zone di opacità molto forti sulla condanna e quindi anche sulla possibilità che possa non essere stata lei. E a quel punto è come se si fosse un po' proprio ribaltato lo specchio. Nel senso che l'angoscia ha continuato a accompagnarmi per gran parte della stesura del libro. Però era un'angoscia che è come se si fosse allargata di più a che cosa ci succede quando crediamo a una cosa fermamente e perché arriviamo a credere a quella cosa. Quindi come la parola può generare dei mondi che magari sono scollati da un piano di realtà. Sì, però allo stesso momento c'è proprio un personaggio, è una persona, Rosa Bazzi, che fa questa cosa. Cioè lei con le parole a un certo punto su certe cose è provata, ma ci gioca. Quasi. Cioè crea, fa delle ipervoli come i bambini per essere creduto, aggiunge particolari. E quindi lì arrivi a un punto di... oppure manipola dei ricordi e la cosa che mi ha fatto più impressione è sentirmi io non tanto diversa da questa persona. Cioè tutti lo facciamo, tutti neghiamo di farlo e a che punto questa cosa diventa problematica però. Cioè qual è il confine? Ovvio, forse se fai qualcosa di così grave. Però anche c'è un giudizio che arriva prima del capire, sì, della realizzazione e della prova se lei sia il docente o meno, secondo me. Cioè già il vagheggiare è visto come una colpa. Sì, questa cosa che hai detto è fortissima perché è vero che è come se lei portasse all'ennesima potenza, no? È come se lei radicalizzasse, estremizzasse qualcosa che appartiene a tutti. Questa cosa del involontariamente riscrivere il passato, no? Attraverso la memoria. Penso a uno che è uno dei più grandi neuropsichiatri che si occupa di memoria, che è Pier Giorgio Strata, è un super scienziato. E lui dice che la memoria è una delle cose meno affidabili che possa esistere sulla faccia della Terra. Perché noi più il tempo passa, più noi riscriviamo gli eventi del nostro passato. Sì, quello che dimentichiamo è che non è un computer, è una cosa che ci serve e che noi adattiamo alle nostre esigenze. Cioè per stare meglio noi abbiamo bisogno di rimanipolare dei ricordi. Però allo stesso tempo cresciamo in una cultura che è quella della verità a tutti i costi, la ricerca della verità. E questo diventa un problema ogni tanto perché conta di più una verità, è veramente un valore o in alcuni momenti è giusto piegare questa verità e renderla più abitabile. Questa è una cosa che io mi chiedo. Forse con un lutto è facile arrivare a fare questo discorso e capire magari che non si vuole sapere tutto, che ci sono delle zone che possono rimanere quelle e si può guardare avanti invece che indietro. Però è una cosa che mi si ripropone molto spesso e che a sua volta si sovrappone con il fatto che la giustizia non è la verità. E molto spesso è così, anche quando fa il soccorso in maniera corretta. Quindi questo libro in veramente, diciamo, neanche tantissime pagine mi ha disorientata più e più volte perché ho ritrovato tutta una serie di riflessioni che già stavo facendo. Queste due cose che hai detto sono, secondo me, sono pazzesche. E è la prima volta che mi trovo con qualcuno che mi parla in questo modo del libro. Beh sì, perché la comunicazione di questo libro inevitabilmente è molto spostata sulla curiosità di lei. E queste cose che invece per me, da scrittrice, in realtà sono le cose che mi hanno interrogato nella vicenda di più. È quello che dici tu, no? Ma la verità, quanto è importante realmente nella vita? E quanto è importante... C'è un passo nel libro, no? In cui io parlo di come funziona la corte lombarda, no? E io dico, nella corte lombarda non c'è la possibilità del nascosto e del segreto che è qualcosa che ti protegge. Cioè, il segreto è una cosa sacra per crescere. Il fatto che noi possiamo tenere per noi delle cose che sono intime, no? E soprattutto, come dicevi tu, anche la possibilità non di riscrivere il ricordo per manipolare qualcuno ma per poter convivere con quell'evento, no? Esatto, con quello che ho pensato. Sì, e che è una cosa che facciamo tutti. Ma anche quando neghiamo di farlo è abbastanza destabilizzante, almeno per me, avere a che fare con persone che negano di farlo. oppure che lo vedono come un oltraggio oppure una mancanza di valori. E quindi c'è un piano in più che si pone ma che è lo stesso un po' che poi si riflette sulle nostre relazioni. Cioè, è giusto non sapere e vivere la parte di relazione che conosciamo oppure uno deve sapere tutto, anche nelle amicizie deve svelarsi tutto. Io lo paragono a questa cosa, forse se uno vedesse da fuori uno che fa la Lino Zamazzi e attaccarla all'amicizia non so come potrebbe prenderla. Però per me è una questione estremamente forte perché tante volte chiedi un consiglio e dici devo dire la verità e non è sempre la cosa migliore da fare. Sì, è come se ci fosse una sorta di ossessione, no? Per cui nella verità noi ci sentiamo garantiti sulla genuinità delle relazioni, sulla sincerità, sull'autenticità, quando in realtà queste cose non necessariamente coincidono. non è che io sono onesto quando dico tutta la verità. Adesso lo so che questa cosa può sembrare tosta da dire così, no? Però ci sono delle parti, come quando... Allora, ci sono delle cose che sono inesauribili. Una di queste cose è l'essere umano. Sì, no, e poi c'è la questione dell'identità. Esatto. Ancora più terribile, nel senso che noi siamo tante persone, quante sono le persone e gli ambienti con cui interagiamo. Ogni volta siamo diversi. Sì. E invece no, tu devi essere coerente. E cioè questa... Io almeno questa è stata cresciuta anche in famiglia con questa cosa, questo faro della coerenza, ma in nome di cosa, poi soprattutto coerenza che mi è stata... che mi è stata quasi imposta quando io ero adolescente, che è l'età dove la coerenza non deve esistere, perché se dovessi essere coerente con la me di 15 anni, 15 anni sarebbe un disastro. Sì. Quindi c'è questo inseguire sempre una cosa monolitica. È vero. Che però è faticosissimo. Certo. Certo, perché la natura va in un'altra direzione. Cioè la natura è una cosa che cambia, ma soprattutto la natura umana. Noi per fortuna continuiamo a cambiare. Sai quelle cose quando ti dicono che ogni sette anni c'è una rigenerazione totale dei tessuti cellulari, no? Ora non so se questa è una fake news o se sia verità, però è vero che anche semplicemente guardando le foto di me di 30 anni fa, quella lì è davvero un'altra persona. Sì. Per fortuna è un'altra persona. Questa è un'occasione meravigliosa che la natura ci dà. È vero. Di poter stare dentro il movimento, no? Quando Bauman parla della fluidità, no? Che è una roba super... è qualcosa che è diventata come l'olio esausto, no? Per cui tutti la fluidità di Bauman. Ma una parte del pensiero di Bauman molto interessante ha a che fare con la fiducia. Cioè la fluidità di Bauman ci impedisce di metterci in una posizione totalmente affidata nei confronti di una verità costituita. Per cui io guardo il fuori e non prendo più le informazioni che mi vengono date come oro colato. Questa cosa qui è chiaro che diventa faticosissima nella vita, no? Perché significa che tu devi fare un atto consapevole in cui vai a cercare la radice di quella cosa e la confronti con te e con il piano di realtà. Dall'altra parte una possibilità. Questa cosa ci richiama essere delle persone più consapevoli, più... più curiose, più attive nella relazione con l'altro e con il mondo. Certo che è una fatica. Io... Una cosa per esempio che adesso il libro è uscito da poco ma molte persone mi dicono però se è davvero così come scrivi nel libro io non posso crederci perché io ho sempre pensato che... No? E la cosa... Oppure a me fa impazzire il perché avrebbero dovuto confessare e tu dici ok, nel senso poi non sappiamo come... cioè in questo momento non c'è anche né una verità processuale definita e riaperto tutto quanto capiremo ma... e avremo il dubbio non lo so forse lo avremo per sempre dobbiamo anche accettare questo aspetto ma noi non teniamo minimamente conto della contingenza nella quale si trovavano queste due persone di tutto il loro trascorso della posizione in cui erano e abbiamo bisogno anche di... di considerarli netti nelle loro posizioni dicendo non possiamo ammettere che loro ce l'avessero effettivamente con questi vicini ma non arrivando fino a massacrare o era un buon vicinato oppure c'è stato il massacro da parte loro noi riusciamo a gestire la parte la parte intermedia di complessità dove uno potrebbe... sì, li odiava e poi anzi magari ha anche pensato meno male che li ha fatti fuori qualcun altro al mio posto no? Sì 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 è come se non ci fosse la possibilità di gestire una conflittualità che non sfoci necessariamente in un'azione violenta il conflitto in realtà è qualcosa di molto generativo cioè il fatto di... è una cosa che ti fa... che fa nascere tantissimo il conflitto no? e non è necessariamente ma questo lo dice per esempio anche Daniele Novara no? in un sacco di libri lui dice che il conflitto ti serve per diventare adulto ma conflitto non vuol dire che ti prendi a randellate in testa con qualcuno no? vuol dire che... che c'è uno spazio di frizione con un'altra persona e dentro quello spazio di frizione tu sperimenti una posizione diversa dalla tua prima di tutto e quella cosa lì poi ti fa anche spostare dalla tua è chiaro che poi nel loro caso era sfociata anche in atti di aggressione verbale reciproca però anche lì io non ho cioè non è detto che siano che ci siano poi delle altre cose derivative di quello non è non è provato ma la cosa che mi che mi turva veramente tanto è chi dice e forse io sono stata anche una di queste persone all'inizio forse per questo che mi turva così tanto è ma che motivo avevano allora di dire che sono stati loro ma che e poi se invece pensi e pensi che se ti trovi in una situazione simile forse a un certo punto dai per perso tutto e quindi devi cercare degli altri modi oppure perché sei goffo nelle tue interazioni con il resto del mondo e è una parola o così un po' leggera che però secondo me rende rende l'idea non sai orientarti in questa parte e forse se anche uno poi ha avuto a che fare con la giustizia a un certo punto si rende conto che c'è bisogno di essere assistiti anche se hai più di una laurea e non è quella in giurisprudenza si si questo è una cosa assolutamente vera che che capisco spaventi però noi c'è una cosa da ricordarsi sempre che non esiste la giustizia esistono persone che esercitano la giustizia e siccome sono persone sono esposte all'errore come me come te come qualsiasi essere umano e la cosa incredibile per esempio del nostro ordinamento giuridico che è diverso da quello di altri paesi e che ha una radice molto civile e che permetta il famoso quarto grado di giudizio che è l'istituto della revisione per cui tu hai avuto tre gradi in cui magari una sentenza è stata riconfermata e però all'interno dell'ordinamento c'è ancora una quarta possibilità che è vero che è un imbuto molto stretto però c'è in cui si può rimettere di nuovo davanti a un'altra corte tutto quello per cui sei stato condannato e quella cosa lì riportarla di nuovo alla luce dei giudici poi una cosa che volevo dirti rispetto a un altro elemento interessante che hai portato che è l'ordinamento che prevede che ci sia una distinzione tra verità giuridica e verità fattuale è nella stessa procedura penale che si dice queste due cose non necessariamente sempre coincidono ma non perché bisogna avere paura ma perché perché esistono più giustizie cioè ce n'è una forse per ognuno di noi ognuno ha la sua certo sì nel campo diciamo fuori dalla giustizia ufficiale quindi dai tribunali dalle aule di giustizia è chiaro che quel confine lì è molto mobile no ci sono delle azioni che si fanno nelle relazioni a volte che per una persona possono essere ingiuste per l'altra no delle azioni che per una persona possono essere aggressive e un'altra non le riceve come delle azioni aggressive o viceversa è chiaro che poi quando si tratta di infrangere la legge perché lì poi si va chiaramente in un altro campo totalmente sì siamo anche proprio a lesioni contro la persona diciamo che siamo anche in un caso estremo però a livello di di concetto forse è una cosa che ci dimentichiamo spesso eh sì ma anche perché secondo me l'etica l'etica è un'altra cosa che cambia a seconda del posto del del momento storico se penso anche a tutto quello che sta succedendo con la cancel culture e che negli ultimi dieci anni è cambiato tantissimo la nostra sensibilità rispetto al linguaggio e infatti poi succede che vengano ripescate delle dichiarazioni vecchie che sono ovviamente sono fuori dal tempo sì sono tolte da un contesto da una storia e poi c'è anche un po' quella cosa con cui faccio più fatica è la distinzione artista cioè etica che poi no in realtà però azioni terribili compiute da un artista e la sua opera lì faccio un po' fatica perché forse sono un po' campanilista e quindi ogni tanto dico no allora non voglio avere a che fare non voglio finanziare neanche gli eredi di questa cosa però a volte ci dimentichiamo che anche le cose problematiche sono parte della nostra cultura cioè la nostra cultura non è tutto ciò che di bello abbiamo non abbiamo un po' questa cosa di usare questa parola solo in senso positivo la cultura è anche ciò che ci adesso forse da quando si dice cultura patriarcale maschilista oppure razzista cominciamo ad associarla a delle cose negative ma io almeno sono cresciuta con un'idea che la cultura fosse santa è vero hai ragione hai ragione e anche questa cosa relativa al fatto che ci debba essere soltanto qualcosa che è buono è bello è rispettabile ma forse perché la cosa tutto ciò che non è bello non è buono e non è rispettabile ci assomiglia tanto anche se non lo vogliamo ammettere però ci sono tocca sempre delle corde di noi fa impressione perché sui libri c'è una frizione più lenta e quindi molte volte non è facile avere questo tipo di feedback però con i film capita che tu esca dalla sala e fuori c'è sempre un po' il commentino e molto spesso c'è gente che fa no questo proprio cioè non ce l'ho fatta non mi piace che schifo proprio usa delle parole del genere e in realtà è perché è stato messo in discussione qualcosa io ho imparato a prendermi tipo di solito un giorno dove dico poi capisco se effettivamente mi è piaciuto e mi è successo con la zona di interesse che è un libro è un film incredibile però oggettivamente che ti lascia qualcosa proprio fisicamente addosso quando esci dalla sala e poi vabbè avendo un lavoro sul sonoro è una cosa veramente molto fisica per poter dare un non è neanche un giudizio però restituire delle mie sensazioni dove mi sono detta aspetto un giorno ho bisogno che la parte fisica un attimo decanti così posso dire se non so la fotografia mi ha colpito perché se in questo momento sono talmente condizionata che è tutto viziato eh sì ma perché in realtà penso che quando scrivi o quando ti muovi nel campo che adesso dico artistico no usando questa parola magari in un'accezione non non completamente calzante quello che fai spesso è andare a toccare tutte le parti deficitarie che sono il rimosso del nostro collettivo cioè noi con che cosa non vogliamo avere a che fare con le cose brutte di noi con l'invidia con le nostre pulsioni violente con le nostre pulsioni aggressive con i desideri inconfessabili con tutto con la nostra bruttezza con le cose che ci fanno di cui abbiamo più paura l'essere poveri la povertà è un enorme rimosso nella cultura italiana l'ignoranza l'essere ignoranti no l'essere soli tutte queste condizioni sono condizioni che ci spaventano guarda sui si congi romano a me ha fatto impressione perché c'è anche l'assenza di un figlio che nella nostra cultura è vista come una prova ulteriore del fatto che o il destino non gliel'ha dato o loro non hanno voluto e quindi comunque è una mancanza è qualcosa che non hai fatto sì è come dici tu è un vulnus è una cosa che apre una problematicità cioè che non può essere non viene accolta con serenità non è rassicurante è qualcosa che fa di te una persona poco rassicurante il fatto che tu per esempio possa non aver voluto un figlio no si non viene neanche considerata la cosa se uno guarda la prima copertura mediatica non li hanno potuti avere si cerca una giustificazione da un'altra parte questo è stato vedendolo nel 2024 la donna è stato abbastanza abbastanza forte perché dici ok allora vuol dire che nel quadro dove si cercava di mettere un po' a posto le cose di farsi di piacere un po' di più questa era una cosa che stonava è vero e infatti queste cose qui che ti ho detto prima sono tutte diciamo caratteristiche che loro hanno e che in una certa maniera gli ha resi anche le persone perfette perché è come se catalizzassero incarnassero tutto quello che per noi c'era di più respingente no e anche quando dici della zona di interesse che in questo il cinema e la letteratura sono vicine no perché la letteratura a differenza della scrittura saggistica che cosa fa incarna un'esperienza quindi quando tu leggi un libro spessissimo tu vivi delle sensazioni fisiche vivi senti degli odori vedi degli spazi vedi dei corpi che si muovono dentro lo spazio e la cosa pazzesca e secondo me potentissima della letteratura e anche del cinema è questa cioè che ti arrivano delle cose sul piano proprio sul piano sensoriale e quindi si sedimentano dentro il tuo corpo prima che dentro la tua testa e questo le rende particolarmente potenti ed è anche quello che faccio fatica a spiegare del libro cioè il libro non è un saggio sull'innocenza sulla colpevolezza non c'è una tesi non c'è uno spingere il lettore verso niente c'è il provare a stare vicina a questa donna e quindi l'esperienza anche fisica di questa donna proprio attraverso degli elementi sensoriali di come lei sta nello spazio del carcere di com'è lei fisicamente la voce che è un altro elemento fortissimo della voce sua che cambia che a volte è infantile e in effetti è una delle cose che si ricordano anche delle registrazioni e tutti diciamo i contenuti che sono stati poi riproposti tra telegiornali tempi podcast e documentari successivamente e io poi in realtà avevo non è che mi sono reso conto però avvicinandomi a questa persona con l'occhio con quello che hai fatto tu che è un occhio neutro di una persona che entra e non sa neanche cosa aspettarsi avevo vissuto cioè ho visto il contrasto con quello che avevo vissuto dal punto di vista mediatico ovvero questa coppia indissolubile che esisteva solo in senso simbiotico e che anzi come prima cosa avrebbe chiesto la cellula matrimoniale perché era talmente interdipendente dove era lei la manipolatrice e perché ha sempre un po' la donna che cattiva questa cosa secondo me arriva un po' da lì questa convinzione che non è provata però nessuno me la toglie e lui invece era un bravo uomo che si è fatto un po' tirare in mezzo c'è sempre questa cosa cioè non è che era lui che poteva aver fatto scaturire tutto quanto quando alla fine invece è una specie se vogliamo vederla essere provocatoria è una specie di fiaba perché io vedo questa donna che finalmente da sola si autodetermina per carità all'interno di un carcere però non è più Rosalino che è praticamente scritto tutto attaccato tutto attaccato sì ma è lei e si toglie anche dei sassoni dalla scarpa comincia a parlare a fare le sue comincia a parlare effettivamente perché noi l'abbiamo vista parlare solo forse quando sono delle confessioni molto concitata tirata un po' in mezzo molto confusa e a me non interessa più se lei è innocente cioè arriva un punto in cui non mi interessa più se lei è innocente o no intanto perché mi faccio un discorso di essere umano cioè è giusto empatizzare anche con chi è colpevole cioè se no vuol dire che il nostro sistema non è giusto cioè non ci dovrebbe essere la pena di morte e dall'altra parte comunque ho avuto vedo il mio privilegio mi è molto più mi è lampante davanti agli occhi non l'ho mai considerato anzi ho sempre allontanato l'idea ho accettato che fossero colpevoli a prescindere anche perché non mi assomigliavano secondo me e invece adesso mi chiedo se io fossi nata in un altro posto se non avessi avuto le possibilità di studiare di autodeterminarmi ma anche solo di pensare a una mia vita da sola senza dover vivere con un uomo per forza per uscire di casa come sarebbe andata quali sarebbero stati i miei percorsi sarei stata più incline forse a compiere gesti confusi non lo so allora questa è una grande domanda che resta una grande domanda e per fortuna resta una domanda Carlotta per fortuna che i libri ci lasciano con delle domande l'ho scritto l'altro giorno adesso che in realtà noi ci dimentichiamo che pensiamo che sono delle risposte in realtà sono delle domande tendenzialmente scritte da gente che lo fa di mestiere quindi anche ben formulate la mia descrizione di libri in questo momento è che la fatica la fatica di adesso rimanere con le domande perché perché tutto intorno a noi cambia velocissimamente come se avessimo bisogno di aggrapparci a qualcosa e restare proprio sostare dentro la domanda è qualcosa che ci richiede un'energia psichica enorme un'energia però è per questo che io credo che i libri non moriranno mai perché i libri a differenza di altri tipi di comunicazione si prendono il tempo e lo spazio per farlo è chiaro che chiedono al lettore un ingaggio altissimo perché l'ingaggio del libro è altissimo devi essere concentrato e dedicato a quello al 100% non lo puoi fare superficialmente concentrazione non è lo scroll è concentrazione ma neanche mettere un film che va e intanto un po' senti perché lì qualcosa forse ti può arrivare esatto ovvio che ci sono dei tipi di fruzioni diverse però non è che poi le giucchiare esatto è facilissimo ed è un lusso pazzesco oggi fare quella cosa è una cosa per cui uno dice ok mi ritaglio quel tempo e quel tipo di stato e dall'altra parte la cosa che hai detto che è incredibile che io mai mi sarei aspettata di trovare quando l'ho incontrata in carcere e poi è quello che restituisco nel libro è questa parte che dici tu di autodeterminazione di emancipazione cioè il fatto che a un certo punto in uno dei posti più difficili che possano esistere sulla faccia della terra ricordo che Foucault in sorvegliare e punire che non è un libro scritto l'altro ieri dice che l'unica differenza tra il medioevo e oggi è che noi abbiamo spostato il supplizio dal corpo all'anima perché i carceri le carceri sono dei posti dove quello che tu fai è sottrarre il tempo della vita che è l'unica cosa che noi abbiamo davvero in questa dimensione che abitiamo alle persone no e quindi e come giustamente dici tu allora se loro se i detenuti non hanno più nessun diritto tanto vale la pena di morte è giustissima questa cosa cioè noi dobbiamo ricordarci che il carcere è pensato come struttura rieducativa non è una punizione non è una punizione e questa cosa di questa cosa ci dimentichiamo anche perché il discorso che facevi tu prima resta ancora attivo cioè lì dentro noi mettiamo tutto quello che non vogliamo vedere perché ci fa più paura e quindi quelle persone lì come possono essere riabilitate domani i nostri occhi è impossibile cioè se la logica con cui stanno dentro e il modo in cui noi le guardiamo è questo è impossibile che ci sia realmente una riabilitazione c'è proprio bisogno secondo me davvero di un riorientamento dello sguardo rispetto a tutta la questione carceraria e della colpevolezza sì è vero poi abbiamo secondo me adesso che abbiamo la sensibilità per capirlo abbiamo uno sguardo perché non è che non lo guardiamo ma lo guardiamo nel modo sbagliato cioè una cosa che è quasi un safari della gente che va a vedere una volta e a fare l'incontro come anche un po' pulendosi la coscienza secondo me del sì sì però sono andato a fare queste tre ore non ci interroghiamo sul problema e tra l'altro che mi aveva fatto abbastanza impressione una psichiatra con cui avevo parlato che mi aveva descritto che vabbè tutta una serie di problematiche legate agli ambienti chiusi cioè anche i commenti dove ogni minima cosa si ingigantisce perché in una diciamo in una realtà così rutinaria dove i giorni sono tutti identici una piccola questione diventa il tuo tu devi anche un po' costruire la tua verità per andare avanti ci ricami intorno e diventa un po' il fulcro della giornata però un po' come anche gli anziani a cui dai appuntamento alle undici magari non hanno niente da fare sono in pensione e alle dieci sono già sul posto pronti perché diventa l'evento intorno al quale ruota e lì però vedere una persona che forse è quasi in un sistema meno chiuso di prima è incredibile questo sì sì perché paradossalmente per lei è diventata una protezione quando tu hai pochi strumenti come Rosa che sono davvero pochi per fronteggiare il mondo cioè questa cosa di non saper leggere è un impedimento enorme enorme sotto tantissimi punti di vista è chiaro che se sta in uno spazio protetto chiuso che poi ha uno spazio protetto inevitabilmente tu non hai più delle richieste tipo dover andare in banca dover andare in posta leggere una lettera che ti arriva perché c'è qualcuno che questo lo fa per te prima per lei lo faceva Olindo adesso lo fa il carcere e quindi dentro lì lei piano piano ha fatto un percorso di emancipazione che è se vuoi paradossale e poi sono uscite anche tutte delle delle questioni che c'erano già prima che però forse sono viste un po' più da lontano sono state non dico gestibili però anche più chiare anche i rapporti tra le famiglie lei a un certo punto si è fatta almeno vedendo da questo punto di vista l'altro non lo conosco si è fatto delle domande e ha cominciato a dire aspetta dico io adesso come stanno le cose veramente si è come se avesse riguardato il passato e lo avesse illuminato di una luce che prima non l'era data e quindi avesse rivisto delle cose che erano successe dove il suo ruolo cambiava cioè diceva cavoli io mi sono fatta fare questa cosa adesso non sono più disposta a subirla è abbastanza incredibile questo perché Rosa è una persona che ha davvero ha delle mancanze importanti Carlotta ma grosse nel senso che poi anche la relazione con lei è stata difficile proprio perché è impossibile cioè il dialogo che noi abbiamo avuto è impossibile non è neanche un dialogo è lei che parla si che percepisce la tua presenza e quindi guida la conversazione in base al fatto che tu sei lì però non c'è un'interazione vera verbale si esatto non è un dialogo esatto non puoi avere un dialogo puoi avere lei cioè puoi accogliere quello che lei ti porta senza neanche troppo indirizzarlo nel senso che quando lei ha in stati ansiosi molto forti è lei che decide cosa dirti non è che tu le puoi chiedere delle cose perché comunque lei ritorna lì dove ha bisogno di stare quindi diventa diventa faticosa anche la gestione di Rosa però è una cosa che colpisce che questo è come se fosse un modello estremo di una cosa che esiste molto di più cioè tutti siamo fatti così e tutti quando siamo soprattutto molto stressati o abbiamo bisogno a volte abbiamo vogliamo parlare con qualcuno ma vogliamo parlare esattamente di una cosa e sentirci dirne una cosa specifica e risposta e ci irritiamo e ci rimaniamo male se questa risposta non ci arriva ma è una cosa che non ammettiamo perché vogliamo essere oppure il cuore che sono pronti a tutto che vogliono questa verità quindi l'importante è che tu mi dica la verità e nient'altro che quella quando in realtà a volte ti chiedono una cosa e voglio solo che tu mi dica che ho ragione che andrà tutto bene e che alla fine tu ci sei lo stesso però magari è una bugia eh sì sì perché in realtà cerchiamo il conforto cerchiamo l'appoggio il sostegno non cerchiamo un confronto o non cerchiamo realmente una posizione dialettica cerchiamo la mano sulla spalla che ti dice pat pat è andata bene e quindi e sì e anche lì in realtà vogliamo una bugia però una bugia buona no? dimmi una bugia è andata bene andata bene dai Carlotta mi sembra che sia andata benissimo mi sembra che sia va bene ma io mi accontento cioè va bene la risposta che volevo però non è una bugia questa questa è la verità sì andiamo ma ti ringrazio davvero è stata alla fine la prima volta in cui ho parlato davvero parlato del libro bene grazie 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 grazie